good morning si qui praticamente sono le diciamo sono le 11 anzi è mezzogiorno mi sono svegliato un'ora fa però sì un'ora fa però appunto per fare le cose quotidiane facciamo un giorno prima che ci alziamo anche per altri motivi non dipendivano da me mi sono comunque alzato effettivamente ad epoca fa quindi possiamo dire già pomeriggio piuttosto che non che mattina anche se nemmeno una mattinata inoltre mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's april 11 2022 and it's monday in naples a clear clear sunny morning very still right now sixty and two and six fahrenheit around 17 celsius and this means that it's that day really 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 soft like in this day in this period e per me anche oltre quasi più un clima estivo che primaverile per quanto concerne il video thoughts of the day non so se lo faccio oggi veramente non lo so ma nel caso come sempre separato da questo quindi se vi interessa occhio anyway i see and you will just see from the window cioè i think è inutile dire questa questo pomeriggio appunto di soft turn 1 in temperature dove salire a scendere eccetera eccetera perché ormai già è pomeriggio but above all with this atmosphere today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ma si capisce che all along the way quindi inutile che lo dico bene così ehm siamo di continuare con questo trend anche domani salvo classi granorusi non dovrebbe cambiare si manterrà così oggi ok nel cui said this so from the mythical window with the red orange blue and green water curtain and it's green green runner shooter behind me on the top not visible and in fact in the shot and finally from the mythical keyboard amadi gx 640 ipg ipg 625 e great day in all the people follow channel reports un saluto davvero a tutti and also i hope you have a great breakfast everyone io la farò tra poco il mio stomaco brontola non so il vostro sentite come brontola si ci vediamo quindi al video tools nel caso lo faccio ma non credo o domani ma non credo